Buonasera a tutti, buonasera a tutti, a la sede dell'FSI Romano, i nostri due soci, Silvio Albertini e Antonio Marrapodi, che ci presenteranno due documenti approvati in passate assemblee nazionali del fronte suonanista italiano. Il primo che verrà presentato sarà quello della riforma del sistema bancario, che verrà presentato dal socio Antonio Marrapodi. Grazie Gianmarco, oggi presenterò come ha detto il documento relativo alle nostre proposte sulla riforma del sistema bancario. Questo documento essenzialmente è diviso in due parti, la prima parte si occupa di un breve excursus storico per analizzare l'evoluzione che ha interessato il sistema bancario del nostro Paese, per poi passare alla seconda parte analizzando quelle che sono le nostre proposte. Come sappiamo, le banche, pur avendo un'importante e inequivocabile funzione di interesse pubblico, nacquero su impulso di privati cittadini che nel tardo medioevo arrivarono addirittura a finanziare i sovrani europei. Questo assetto di natura prevalentemente privatistica venne mantenuto nel corso dei secoli in tutto il mondo. Ai nostri fini però restringiamo adesso la nostra analisi a quella che è stata la situazione che ha coinvolto il nostro Paese a partire dalla seconda decada del XX secolo. Cosa accadde in questo momento? Essenzialmente il nostro Paese fu colpito molto duramente dalla crisi del sistema liberista e della prima globalizzazione e il governo dell'epoca fu costretto a intervenire per contrastare determinati scandali bancari che ne emersero con le conseguenze. In un primo momento però agì attraverso la leva valutaria, quindi ponendo in essere politiche monetarie essenzialmente deflattive che aggravarono ulteriormente la situazione. In un secondo momento ci fu un cambio di politica, quindi con la costituzione dell'Istituto Mobiliare Italiano e Dell'Iri, il quale acquistò le partecipazioni azionarie delle banche in difficoltà e i pacchetti di controllo delle banche stesse, per poi sfoggiare nel 1936 con la famosa legge bancaria col quale si sancì l'inversione del paradigma, quindi mettendo in discussione il controllo da parte del capitale privato del sistema bancario. Essenzialmente questa legge di riforma bancaria poggiava su tre pilastri, innanzitutto la separazione tra banca e industria, in secondo luogo la separazione tra gli istituti dediti all'erogazione di credito a breve termine e quelli dediti all'erogazione di credito a lungo termine. Infine il terzo privato, pilastro, prevedeva che l'attività bancaria svolgesse una funzione di interesse pubblico, portando quindi alla creazione delle banche di interesse nazionale. Una conferma di questo ce l'abbiamo dal centro studi della Banca d'Italia, che testimonia come alla fine del 1936 già l'economia italiana, grazie anche alla svalutazione della lira, attraversò una fase di ripresa economica e di riequilibrio delle partite correnti. Tuttavia in questo periodo la banca centrale toccò il punto di minore autonomia perché fu tolto ogni limite alla possibilità del governo di finanziarsi attraverso debiti alla banca centrale. Spostiamoci adesso per quanto riguarda la nostra analisi all'analisi di quello che è stato definito dagli studiosi il trentennio glorioso, quindi che va prevalentemente dal 1948 al 1978. Cosa accadde in questo periodo? Innanzitutto occorre dire che i nostri padri costituenti mantendero inalterato quello che è stato l'assetto della legge bancaria, cristallizzandolo nell'articolo 47 della Costituzione della Repubblica, il quale recita testualmente. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Cosa vuol dire questo? Vuol dire porre in Costituzione un principio basilare che è quello del dirigismo economico dello Stato. Questo principio si è rivelato molto efficace soprattutto per favorire la ripresa economica italiana nel dopoguerra ed è riuscito inoltre a sopperire a tutte quelle che sono state inadeguatezze del mercato dei capitali a fare ciò. Questo assetto però cominciò a mutare a fine anni Ottanta in cui questo sistema bancario di natura prevalentemente pubblica, quindi caratterizzata da una forte presenza di capitale pubblico negli assetti proprietari delle banche e dal regime soprattutto di repressione finanziaria che riusciva efficacemente a contrastare speculazioni e rendite, permetteva allo stesso tempo la presenza di banche a capitale privato. Queste banche ovviamente si differenziavano da quelle a capitale pubblico per un elemento fondamentale, ovvero sia la ricerca del profitto. Queste banche infatti approfittarono dell'apertura del nostro Paese ai mercati esteri, favorita anche dal ritorno in auge dell'ideologia liberista e globalista, approfittando per il nostro Paese per azioni abbastanza spregiudicate, che basti citare a tal fine due scandali relative al caso Sindona con la banca privata finanziaria e al caso Calvi con il crack del Banco Ambrosiano. Ovviamente la classe dirigente dell'epoca, già prona a questi dogmi liberisti globalisti, ne approfittò per porre all'opinione pubblica già scandalizzata da questi crack un unico capro espiatorio, ovvero sia la presenza della mano pubblica nel settore bancario. E si usarono questi scandali come Grinaldello per far tornare il sistema bancario sotto quella che definirono l'efficace guida dei mercati. E fu questo il periodo in cui si cominciò appunto una lotta senza quartiera all'inflazione per abbandonare il regime di repressione finanziaria, rendere indipendente la politica monetaria e istituire un regime di concorrenza tra gli istituti di credito. Si arrivò così agli anni 90, dove si continuò questo percorso tramite un complesso molto articolato di riforme, basti citare a tal proposito la legge 218 del 90, la cosiddetta legge Amato, la quale consentì anche alle banche pubbliche di adottare la forma di società per azioni. O si pensi ancora al 1993 con l'emanazione del testo unico bancario, o nel 1998 l'emanazione del testo unico della finanza. Tutto ciò portò a quella che definirono la modernizzazione del nostro sistema finanziario sempre sul recepimento di direttive sovranazionali e quindi comunitarie. Essenzialmente i pilastri di questa nuova riforma furono due, quindi l'affermazione del carattere d'impresa dell'attività bancaria, sia essa pubblica che privata, e l'avvio del processo di privatizzazione. Se a questo si somma anche il ripristino del modello della Banca Universale, ecco che, sempre su impulso delle direttive europee, ecco che abbiamo assistito in questo periodo alla restaurazione di quel sistema globalista e liberista già entrati in crisi nella seconda decada del Novecento, riportando così l'orologio della storia indietro di ben 60 anni. Sempre in questo periodo un'altra forma di indebitamento molto pericolosa fu quella del credito al consumo, ovviamente recepita nel nostro ordinamento con la legge 142 del 92, sempre sul recepimento di direttive comunitarie. Per capire perché questa forma di indebitamento è molto pericolosa basterà contestualizzare il momento storico in cui è stata introdotta nel nostro ordinamento. E' stato essenzialmente il momento in cui il nostro Paese aderì all'Unione Monetaria. Simmetricamente si generò un clima di austerità sui conti pubblici che diede luogo a una stagnazione del reddito pro capite, un impoverimento generalizzato dei getti medio-bassi e soprattutto a un ingente afflusso di capitali esteri. Quest'ingente afflusso di capitali esteri diede il via, diede lo start al fenomeno del credito facile, ovvero sia l'erogazione di finanziamenti a consumatori e imprese senza un'attenta valutazione del loro merito creditizio, ovvero sia della loro capacità di rimborso. Si generò quindi una spirale di sovraindebitamento che continuò a crescere ininterrottamente per tutti gli anni 2000 fino ad arrivare allo scoppio della crisi economica mondiale nel 2008. Quindi quella che i media ci hanno presentato come una crisi derivata dal debito sovrano non fu altro che una crisi bancaria che diede l'input negli anni successivi a livello europeo a quella che deve essere la creazione dell'unione bancaria. In questa ottica nel 2014 è stato introdotto il meccanismo di vigilanza unico seguito nel 2016 dal meccanismo di risoluzione unico. Essenzialmente a questo istituto furono assegnati determinati poteri e strumenti di risoluzione. Si stabilì a titolo di esempio che esso potesse procedere al trasferimento dei rapporti delle banche in crisi a terzi acquirenti in modo da preservare la continuità delle funzioni dell'istituto. E soprattutto ai nostri fini occorre rilevare che è stato introdotto l'istituto del bail-in, ossia tramite questo istituto si mettono a carico di azionisti e creditori dell'istituto le perdite di questo senza ricorrere in prima battuta all'intervento pubblico. Quindi si è assistito a un completo cambio di paradigma in cui la prima fonte di sostegno agli istituti in crisi in un passato era rappresentata dal sostegno dalla mano pubblica e in secondo luogo le perdite adesso sono a carico di azionisti e creditori dell'istituto. In altre parole ci troviamo ad affrontare adesso come Italia una situazione in cui il nostro sistema bancario è schiacciato tra essenzialmente tre pericoli. In primo luogo la voracità del capitale finanziario internazionale che ha fiutato nella presenza di importanti sofferenze nel settore bancario italiano un'ottima opportunità per speculare. Basti pensare per esempio alla stessa BlackRock che è il più grande fondo di investimento a livello mondiale che è diventato il primo azionista di Unicredit. Il secondo pericolo che il nostro paese si trova ad affrontare è quello rappresentato dallo sgonfiamento della bolla immobiliare che porterà verosimilmente i capitali esteri a saccheggiare il nostro patrimonio italiano e immobiliare. Basti pensare per esempio ai consigli normativi forniti dal Fondo Monetario Internazionale al nostro governo di centrosinistra dell'epoca volti appunto all'incentivazione di soluzioni stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti alla liquidazione di imprese non più vitali in quanto non generanti più cash flow o alla ristrutturazione di quelle ancora capaci di generare flussi di cassa per coprire il costo degli interessi proponendo di trasformare per quest'ultimo i crediti in partecipazioni azionarie tramite il cosiddetto fenomeno del debt equity swap. In altre parole furono tutte soluzioni per permettere alle banche di fagocitare le aziende dei propri debitori. Tutte queste richieste furono prontamente recepite dal nostro governo prono a questi diktat soprattutto basti pensare al decreto banca introdotto nel nostro ordinamento col decreto legge 59 del 2016 che diede la possibilità di inserire nei contratti di finanziamento tra imprese e istituti finanziari la gestione del bene immobile concessi in garanzia in caso di inadempimento del debitore. Vennero inoltre ridotti i tempi delle aste giudiziarie stabilendo che alla terza asta andata deserta si introdusse la possibilità di ridurre fino alla metà il prezzo del bene. Inoltre furono ridotti i tempi delle opposizioni nelle esecuzioni immobiliari. A ciò si è aggiunta anche la riforma delle banche minori quindi essenzialmente le banche popolari e di credito cooperativo accusate strumentalmente di essere eccessivamente clienterali e inefficienti ed eccessivamente ancorate al territorio di riferimento. Ovviamente tutto ciò per favorire la loro acquisizione da parte di gruppi maggiori in un'ottica di crescente concentrazione e internazionalizzazione del sistema bancario. E infine il terzo pericolo che ci troviamo ad affrontare è quello rappresentato dalla bramosia tedesca di fagocitare il nostro sistema bancario essenzialmente la Bundesbank ha proposto in sede europea di attribuire un rating ai titoli del debito pubblico detenuti dalle banche europee. Questa misura essenzialmente adrà colpire in particolar modo le banche italiane date le norme mole di titoli del debito da essere detenute con la conseguenza che ponderare il valore dei titoli in base al loro rating implica diminuirne il valore nominale penalizzando quindi i nostri istituti di credito con la conseguenza di esporle, di metterle in difficoltà e di esporle a facili acquisizioni da parte del capitale estero. Il rischio quindi è che il patrimonio delle famiglie e delle imprese italiane venga svenduto al capitale finanziario internazionale. Per questo motivo noi del fronte sovranista italiano proponiamo essenzialmente la nazionalizzazione del settore bancario affinché lo Stato torni a fare il banchiere il regime di monopolio. Da questa riforma potranno rimanere escluse le banche minori quindi quelle popolari e di credito cooperativo le quali però dovranno essere sottoposte a una speciale vigilanza bancaria e dovranno essere sempre ancorate al territorio di riferimento e inoltre sarà vietata l'acquisizione da parte di altre banche. La seconda proposta è quella relativa alla dismissione del mercato estero del credito e ciò implica l'arresto del processo di internazionalizzazione del settore bancario vietando il possesso di quote di partecipazione di banche straniere. La terza proposta è quella relativa al ritorno alla separazione bancaria quindi si dovrà abbandonare il modello di banca universale reintroducendo la separazione tra istituti dedicati all'erogazione di credito a breve termine e da quelli dedicati all'erogazione di credito a lungo termine. Inoltre un altro aspetto è molto importante è legato alla separazione settoriale degli istituti di credito quindi ogni banca sosterrà determinati settori dell'economia italiana basti pensare per esempio all'industria, al commercio, all'agricoltura o al turismo. La quarta proposta nostra è relativa alla repressione del credito al consumo come abbiamo detto è necessario eliminare questa pericolosa forma di indebitamento diffuso e ciò implica un ritorno a una politica economica costituzionalmente orientata al raggiungimento del pieno impiego e a una simmetrica politica dei crediti come prevista dall'articolo 36 della carta costituzionale. La quinta proposta prevede dei piani di sostegno finanziario per garantire l'accesso alla proprietà immobiliare le case dovranno essere quindi sottratte alla rendita e restituite alle famiglie italiane. Piani di sostegno finanziario ancora all'industrializzazione questo è un settore particolarmente danneggiato da anni di privatizzazioni e di delocalizzazioni all'estero. Piani di sostegno al settore commerciale, all'agricoltura, al turismo all'ammodernamento energetico nazionale saranno parimenti importanti tutto ciò ovviamente dovrà essere affiancato da vigorosi investimenti pubblici e dal sostegno finanziario da parte delle banche nei settori ritenuti strategici. La sesta proposta prevede la reintroduzione di rigorosi istituti nel contesto delle procedure esecutive fallimentari soltanto però dopo aver risolto il problema dell'indebitamento diffuso. Occorrerà quindi reintrodurre rigorosi istituti perché l'insolvenza di un'impresa non dovrà più essere considerata come un evento fisiologico nella vita di un'impresa ma bensì un'eccezione patologica che deve essere assolutamente prevenuta e scongiurata. L'ultima proposta nostra riguarda la reintroduzione della dipendenza della Banca Centrale dal potere esecutivo nello specifico bisognerà stabilire che le decisioni di politica monetaria e relative al tasso di sconto dovranno essere decise in via esclusiva dal Ministero del Tesoro sarà poi compito della Banca Centrale eseguire quanto stabilito in sede politica.